sportello reclami siamo al parco ducci per intendersi da quella parte là c'è la zona di a monte falco e qua c'è la caserma dei carabinieri un parco che si presta a passeggiate a fare footing a fare movimenti insomma per restare bene siamo con delfo usi spesso questo parco del fu proprio per fare delle buone salutare i camminati ma c'è un problema tra l'altro c'è anche il sottofondo della fontana che stimola certe volte insomma abbiamo bisogno diciamo così di depositare un po di liquido organico no ma c'è un grosso problema adolfo ci andiamo la vicino al deposito e vediamo un po cosa è la qual è la situazione affrettiamoci perché più tempo passa e più io ne sento bisogno tu come stai insomma anche io l'ho fatto meno male che siamo arrivati ecco qui c'è la porta ecco qua vediamo un po finalmente ci alleggeriamo oppure il bacco è chiusa beh chiaramente questo è il motivo per cui siamo venuti qua delfo qual è la situazione di queste toilette pubbliche al parco d'ucci ma senta io qui vengo spesso regalmente al parco a fare le camminate però c'è un grave disagio nei bagni che non funziona sia quello come potete vedere quelli uomini che a parte la porta tutta rotta tutto però sono chiusi diverso tempo una persona che deve urinare frequentemente oppure deve andare al parco trova chiuso e non si può andare di ora sono chiusi ma tu hai avuto modo di vederli anche quando erano aperte le porte ma dentro era uno sfascello un degrado inaccettabile sporcizia ovunque lavandini pezzi rotti cosa indescrivibile quindi cosa indecente ecco in amministrazione così quindi questo questa situazione di chiusura o di degrado dentro sia nel gabinetto uomini che in quello delle donne sia anche quelle donne sia anche uguale idem uguale ora magari diciamo anche tiriamo anche le orecchie ai cattivi utenti di questa situazione però il fatto di mantenerli in efficienza di mantenerli aperti questo non aspetta agli utenti agli utenti rispetto usarli e rispettarli ma si si rispetta che l'amministrazione che tiene lì adeguati igienici servizi puliti e aperti perché sono di un portare fu sei un abituato di questo marco che si presta bene così a fare delle passeggiate fu di vediamo anche da quando siamo qui che ci sono stati molti che che fanno la salutare camminatina post pagliare magari ci vengo anch'io spesso camminare un bel parco non c'è dubbio da quanto tempo c'è delfo questa situazione io penso due tre mesi che così è forza anche più addirittura tre mesi sì se neanche più perché io vengo regolarmente la domenica ma anche quest'aldi giorni la sera per fare una bella camminatina un bel parco però è questo degrado dei bagni che non sono chiusi è un problema qui ci va messo rimedio ci va perché o si abbandona il parco oppure si rimette in funzione queste toalette ma non è finita qua solo per il reparto tra virgolette uomini e quello delle donne c'è anche un'altra situazione andiamo a vederla di qua ecco questo è il bagno dei disabili stessa condizione di non accessibilità perché anche qui mi pare che la porta è proprio chiusa a chiave chiusa a chiave però quando funzionava hai detto tre mesi fa hai visto che anche qua dentro c'era lo sfaccello si si era lo sfaccello dopo questo era chiuso era aperto era chiuso aperto quello delle donne quello gli uomini però anche qui c'è lo sfaccello c'era qui era sempre chiuso anche prima anche prima era sempre chiuso sicché un disabili non poteva soffrire perché era sempre chiuso anche tre mesi fa e qui bisogna anche aggiungere che che è in condizione di purtroppo dover viaggiare in sedia a rotelle si trova ancora più in difficoltà insomma sono situazioni a cui va certamente posto rimedio magari con una certa urgenza perché tre mesi non sono tre ore no si può capire una breve interruzione per manutenzione e altre cose ma tre mesi sono veramente tanti allora rinnovando il richiamo anche agli utenti del fa aiutami perché gli utenti sono i primi a dover rispettare questi impianti queste attrezzature poi però giusto che fra tanti ci sono anche quelli un po' maleducati anzi direi più scial troncelli o magari teppisti perché devastano tutto va bene bisogna anche invitare qualcuno a intervenire e rimettere a posto le cose il parco ducci ad arezzo non solo questo merita anche delle toilette funzionanti d'accordo d'accordo con lei merita toilette funzionanti nel rispetto delle regole comunque è importante aprirlo e tenerlo presente se tre i bagni puliti insomma perché il parco ci vengono regolarmente tutti i giorni la sera ci vengono a fare una bella camminata un bel parco però i bagni bene chiarissimo delfo grazie della tua segnalazione e noi come sempre questa segnalazione la consegniamo ad alex revelli perché a sua volta là inoltri a chi di competenza sportello reclami dalle parco ducci arezzo grazie 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 grazie